Buahekuji, ben ritrovato a vostro andrò in cronotone in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Ghost Strikers 2013 Andiamo subitissimo al punto chiave Oggi c'è la partita contro la Legend di Nazma Japan E potrebbe essere l'ultima partita Potrebbe davvero essere l'ultima del gioco Vediamo un po', affrontiamo Mark Evans e la sua leggendaria squadra Saka Yarose, ma i parole furono più belle Parole forti che hanno dato il via alla più grande squadra che il mondo ricordi Beh, il mondo videoludico Premiamo Start, o meglio, Più E diamo il via all'ultima partita Dovrebbe essere l'ultima, ragazzi, io non ne sono sicuro Holy Rodostejam, Regendu Japan La Regendu, perché i giapponesi... A parte che pronunciano anche leggendo, non lo so Dipende da quale parte del giappone vieni E quale professore di doppiaggio hai avuto Quale scuola hai fatto Scuola per attori, intendo Oh mio Dio, ma alcuni giocatori hanno subito l'Energymax Esci l'Energymax Buonanotte, André Inazzo, Yokei Watch mi sta... Un attimo... Ho appena finito di giocare a Yokei Watch 3 Sto ancora a pensare all'Energymax No, vabbè, vabbè Non l'ho attivato meglio così Perfetto, dicevo La barra di energia in Azuma È molto alta per alcuni giocatori Non ho ancora capito perché alcuni è così Ad altri no Però, se riuscissimo a passare la palla a Soul Daystar Che, mannaggia Non è potenziato al massimo Però dovrei riuscire comunque sia Ad effettuare il Tornado di Fuoco Tripla Direzione Naggia Go to Heru Sempre Tira Slido E a paletto Dai ragazzi, dai che quanto... Sono carichissimo per questa partita Però Dobbiamo segnare, eh Niente, non riesco a trovare... Se non mi vengono i giocatori vicino Non posso effettuare... Bene, bene così Bene così Così almeno faccio l'Aura di Energia E gli levo palla Non gliela levate invece Bene, bene, bene Ragazzi, mi venite qui per favore? Che vorrei effettuare il Tornado di Fuoco? Eh, diavolo E mo' basta però, eh Siccome non me lo... Siccome non riesco a farlo Può anche essere che Miximax non me lo fa Non lo so, ragazzi Non lo... Non lo so Non lo so Io ci provo, mo' tiro Vediamo un po' come va Ah, ecco perché No, vabbè, però il terzo tiro Non lo so Ah, perché devo selezionarlo in Miximax Però non ha senso Ci vogliono, secondo me, i tiri combinati per fare gol qua C'incuba Può essere che ci vogliono come può essere di no Devo provare in tutti i modi Ma è così, bravo Ah, pensavo Diamond Kureishi, Diamond No, perché? Eh no Tanto che ho Miximax attivato Sono sempre carico Dovrei avere... Però no, così, ragazzi Dai Perfetto Mannaggia Oh 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 È lontano però, eh È lontana La zona lucidiale finale Last death zone, quindi Me l'hanno fatta ma non mi ricordo il nome Buono Era lontano però, eh È quello che mi ha salvato Il fatto che era lontano Sennò ragazzi mi prendeva Facciamo un gol assurdo Mi basta fare un gol per vincere E non fargli fare a loro, ovviamente Sennò Non è carico, quindi non ce la fa Posso stare un pochino più tranquillo Eh, mi stava per prendere Quindi devo provarci comunque Purtroppo devo far così Eccolo qua Eccolo qua L'elemento ha vinto Sono vento Lui è montagna Ho vinto io L'elemento vince sempre ragazzi Oh ma È incredibile Ci ho fatto caso Dopo che Dopo che me l'avete fatto notare voi nei commenti Perché io sono idiota E non ci ho fatto caso Che l'elemento fa tanto Ma davvero tanto ragazzi È 50% L'elemento fa il 50% Mimba mia Paura No, 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 no Eccolo, eccolo Perfetto Fate, Maru Bene Dopo che mi avete fatto notare appunto Sto caso dell'elemento Che fa il 50% di danno Ho detto Sti cavoli No, ho tirato Era un tiro al volo Non me l'ha fatto il tiro al volo Perché? Perché mi devi deludere? Uffa Era bello Secondo me Secondo me ce la faceva Non vorrei dirlo Però secondo me ce la faceva Cisù Beh non c'entra niente Fai con Goldie che fa Cisù però Insomma Tanto per Ok Dato che il primo tempo è ormai finito Devo farlo Non possono segnare loro Sunlight Crazy Sunlight Facciamo basta il tempo Uh ok Non male come primo tempo Io so benissimo che nel primo tempo ho detto Voglio fare il tornado di fuoco tripla direzione Contro una tecnica montagna Però È il tiro di tre giocatori Quindi la potenza si somma E se la potenza di tre giocatori si somma Potrebbero anche abbattere L'elemento Però non è sicuro Ok Scintilla rotonda Oh Che è successo Da qui va benissimo Foresta sono È foresta mi sembra Quindi è neutro È un potere neutro Le Gli elementi Ok Ok questo è vento Contro il mio che è di fuoco È neutro Però comunque sia Ho attivato il burning anch'io Per evitare di prenderci le mazzate Potrebbero pareggiare Perfetto Okita Vai così ora Vai così Vai così Oddio che tecnica era Fuoco Sicuramente fuoco era Era fuoco Si Porca miseria Non ci stavo a ripensare Dannazione Vai Lui è foresta Io sono fuoco Vinco io O è vento Potrebbe essere vento O foresta Ma vinco io Comunque sia Vinco io No Sto a pensare Un'altra cosa Cavoli Lo so che non faccio Gol Ma voglio tirare Lo stesso Dannazione Oh però è andata Bello stesso Non ci credo No Non era carico E non ho fatto Gol No No Perché non l'ha preso Perché non l'ha preso No 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 Si Si Che culo Non ci credo Voi non è portiere carico Io perché non è portiere carico Che fortuna Che fortuna Proprio è carico stavolta Che fortuna Questo Quella Eccolo in armatura Voglio farlo lo stesso Non mi interessa se tipo poca e se me la blocca Voglio farlo Voglio fare gol così Le soddisfazioni Le soddisfazioni Non avete idea Non avete idea delle soddisfazioni che ho in questo momento Che mi stanno dando i miei giocatori Vai ragazzi bravi Grandi ragazzi davvero bravi Si stanno comportando in maniera eccellente Ah vabbè Non mi dà il tempo di fare il Miximax con Goldy Porca miseria Ma mi fate usare Goldy un attimino? Eh dai Potrebbe essere l'ultima partita questa Non mi fanno neanche usare Goldy Eh vabbè Non mi arrendo finché Non riesco a fare il Miximax con Goldy Oh Dragon Oh e allora Gli Akimochi Screw Fuoco ma non mi interessa se la para Volevo solo farlo Va bene Va bene Volevo solo fare il Miximax e non tirare per forza Però Dato che sono riuscito comunque sia a tirare È stato un bel risultato Buono Buono L'ultimo tiro L'ultimo tiro L'ultima azione L'ultima azione ragazzi È l'ultimissima La parerà? La parerà La parerà È finita Noi abbiamo vinto Ora c'è un giocatore da reclutare Che voglio reclutare assolutamente Anche se poi Non so se giocherò ancora Perché ci sarebbero i tornei da fare E sui tornei ci sono alcune squadre Che non ho Incontrato a quanto pare Perché è Axel Blade Goenji Shuya Il mio personaggio preferito Poi c'è anche lui Che mi piace E via anche lui Vedete qui ci sono i tornei Con delle squadre Che comunque sia Ho già affrontato Tutte le squadre Però C'è questo torneo Che non so che squadre ci sono Quindi che devo fare io? Perché poi vorrei vedere Che diamine c'è qui Però Kuj Lo faremo Vedremo comunque sia Se c'è qualcosa da fare In un secondo momento Vedremo successivamente Vedrò per conto mio Se effettivamente ci sono Delle squadre Che non sono appunto Comparse durante Le isole Se ci sono squadre Da affrontare Nel torneo Che sono tre squadre nuove All'ogni modo Kuj Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Questo episodio Vi ricordo come sempre Vi darò un'occhiata In descrizione Per la pagina Twitter e Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti